Qual è la situazione economica delle imprese del Nord Sardegna? Se vediamo i numeri del movimento delle imprese che in questo terzo trimestre del 2012 vede per la prima volta la crescita più bassa che abbiamo avuto in Italia, il sud va meglio del nord e del centro, però nel sud ci sono le isole e purtroppo la nostra isola non va bene, è quella che presenta un saldo che è poco, pochissimo positivo e la provincia di Sassari un po' negativo, però stiamo parlando dello zero virgola e quindi si può dire che è una situazione stazionaria. Quali sono i settori più colpiti? L'artigianato è il primo settore che è in calo, fortemente in calo e tutte quelle attività che molto sono collegate ad esempio al settore dell'edilizia e che erano anche un po' lo spin off dell'industria. Tengono un po' i servizi, stranamente sembra che tenga il commercio, ma purtroppo noi lo evidenziamo nella serie storica, non è che tiene, è che è forse una delle attività più semplici da aprire quando c'è crisi, quindi chi non trova un posto di lavoro molto spesso si apre una piccola attività di pubblico esercizio o una piccola attività commerciale, ma che però purtroppo dopo un anno e mezzo o due anni chiude. Che dire invece del turismo, nonostante tanti sforzi, si è riusciti a destagionalizzare? No, dobbiamo dire che il turismo poi tra l'altro è quello il primo che risente della problematica dei trasporti e in questi ultimi due anni lo schiaffo si sta sentendo anche pesante, quindi se non si risolverà bene la problematica legata al trasporto marittimo e aereo e soprattutto anche la combinazione delle diverse modalità di trasporto, perché a seconda della stagionalità è più utile l'aereo perché abbiamo bisogno di vacanze brevi e per altre invece è più utile il trasporto marittimo, ecco se non si risolve questo problema che soprattutto fuori stagione non ci sono i numeri per cui il vettore possa con economicità organizzare il trasporto non avremo la disponibilità, infatti molti tour operator ci dicono che non è solo un problema di costi è anche un problema di disponibilità, di trovare degli spazi.